Ed ora parliamo di sport, di calcio mercato, 5 ore e mezza in punto alla chiusura delle operazioni a Milano e allora facciamo il punto sulle operazioni principali con il nostro Massimo Profeta nei nostri studi. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione e all'ascolto. Allora c'è da dire Carmine che il mercato della Pescara chiude in anticipo. Ieri abbiamo ascoltato sia Sebastiani che De Licari, ieri sera dopo l'ingaggio degli ultimi due giocatori e di cui vi abbiamo parlato anche sul nostro sito, vale a dire Sasanelli e Meazzi. Non ci saranno ulteriori operazioni in entrata e in uscita, il mercato chiuderà questa sera alle 20. Stessa cosa dicasi per il Lapineto, tant'è vero che Marcello Di Giuseppe non è neanche partito per Milano. Stanno ripartendo da Milano invece De Licari e Sebastiani. Dunque Sasanelli e Meazzi, dopo Sasanelli e Meazzi il nostro mercato si chiude qui. Le parole del Presidente Sebastiani sono due acquisti. Se ne parlava da settimane, Sasanelli è un giocatore tutto da scoprire. È un classe 2004, se ne parla molto bene. Ha fatto un campionato nell'Andrea, una prima parte di stagione con ottime prestazioni. 7 gol in 20 presenze. È un giocatore molto giovane, molto potente dal punto di vista fisico. Da inquadrare sul piano tattico perché è un riferimento centrale in un attacco a tre ma può giocare anche sull'esterno. Meazzi lo conosciamo meglio, sicuramente un buon giocatore. Nasce trequartista, è un classe 2001. Viene dall'Entella, quindi sono tutte e due operazioni a titolo definitivo. Deve abituarsi di più a giocare da mezzala, ma per questo c'è un allenatore, un maestro come Zdenek Zeman. Anche lo scorso anno, del resto, Carmine, ricorderai Raffià, un giocatore trequartista, giocatore di grandissima qualità, tant'è che gioca stabilmente in Serie A nel Lecce. Riuscì Zeman a cambiargli la posizione in campo, fece giocare da mezzala con ottimi risultati. Per quanto riguarda invece il ripilogo, perché possiamo già farlo, mancano alcune ore alla chiusura del mercato invernale. Sono quattro gli arrivi in totale in casa Pescara. Gasparini in prestito, il portiere in prestito dalla Potenza, un classe 2002 cresciuto nell'Udinese. Andrea Capone svincolato, fratello di Cristian che ha militato nel Pescara. 60 presenze e 8 gol in passato. Andrea Capone è un esterno d'attacco. Sei mesi il contratto con opzione a favore della società per i prossimi due anni. Diciamo che è una scommessa. Si giocherà la conferma, Andrea Capone, che viene dalle giovanili del Milan. Sasanelli, abbiamo detto, a titolo definitivo dall'Andra e Meazzi, anche lì a titolo definitivo dall'Entella. All'Entella è stato corrisposto un indennizzo. Queste sono delle immagini che riguardano Meazzi, un gol realizzato contro il Cesena in Coppa Italia lo scorso agosto. Vediamo un po' anche le caratteristiche di questo giocatore, che ha anche un bel tiro. Lui è destro naturale. Meazzi, dicevamo, a titolo definitivo dall'Entella, con il Pescara che ha corrisposto un indennizzo al club Ligure, a cui ha lasciato anche il 10% sulla rivendita futura. Questo è invece il gol in campionato, l'unico realizzato da Meazzi. Classe 2001, ripetiamo ancora una volta, all'inizio della stagione contro l'Ancona in casa. Tiro a giro di Alain Signe e porta di potenza. Niente male, niente male. 5 le partenze invece. Ciocci al Ponte Nera, Via Caglia di Portiere, Manu in prestito al Pineto, Mora a titolo definitivo alla Fiorenzuola, Tommasini in prestito al Monopoli e Casciano, che è un ragazzino della primavera della Pescara, classe 2006, a titolo definitivo a Lecce, andrà a giocare naturalmente con la primavera salentina. Le operazioni mancano poche ore, ma ci hanno assicurato i dirigenti del Pescara, Sebastiani e Delicarri, che non ci saranno ulteriori operazioni in entrata e in uscita, tant'è che stanno ripartendo da Milano. Il Pineto, stessa cosa, c'erano tante richieste, Carmine, per Volpicelli, che è l'elemento, insomma, il valore aggiunto, diciamo così, della squadra di Daniele Amaolo. 11 gol in campionato, c'era il pressing dell'Ancona, c'era il pressing del Turris, dello stesso Cerignola, incedibile. Volpicelli, non ci saranno altre operazioni in uscita nel Pineto, sono due invece le operazioni in entrata in questo mercato di gennaio, vale a dire Manu, che è un giocatore che noi conosciamo, perché è stato dato in prestito al Pineto dal Pescara. Diciamo che il Pineto è soddisfatto di quello che ha fatto, io ho sentito lo stesso Marcello Di Giuseppe, e sabato ci sarà questa attesa sfida, insomma, all'Adriatico Giovanni Cornacchia, inizio ore 20.45, in diretta, lo ricordiamo, in chiaro, su Reteotto, con ampio pregara a partire dalle 19.45. Non ci sarà, ecco l'ultima cosa, Sasanelli, uno degli ultimi arrivati in casa Pescara, perché deve scontare una squalifica rimediata domenica scorsa con la maglia dell'Andrea nel confronto esterno con il Gravina. Questo è un gol di testa realizzato, uno dei sette gol realizzati da Sasanelli, classe 2004, con la maglia dell'Andrea.